Buongiorno professore, benvenuto a Piacenza, ci dica brevemente di che cosa parlerà oggi? Sì, parlo delle origini del Federal Reserve System. Di che cosa si tratta e quali sono le implicazioni nel mondo attuale? Va bene, allora siamo abituati a dipendere alle banche centrali per evitare crisi, ma non succedono a fare quello e loro dobbiamo pensare alle altre possibilità. Parlo delle origini del Federal Reserve per spiegare che c'erano anche in quei tempi, prima del Novecento, altri sistemi senza banche centrali che erano stabili, senza crisi. Potremmo cercare in questi sistemi come quella a Canada un altro modo per evitare le crisi. Questa è la lezione per oggi. Una piccola curiosità, lei ha qualcosa di piacentino? Sì, infatti mia mamma abitava qui prima di sposare mio papà. Lui era milanese, che abitava già negli Stati Uniti, ha sposato mia mamma qui a Piacenza e allora sono ritornato negli Stati Uniti dove io sono nato. Ok, va bene, grazie, grazie mille. Prego.